Sei mesi di Ginevra, Natalia Paragoni e Andrea Zeletta, un'esplosione d'amore. I due ragazzi hanno festeggiato il sesto complimese della loro piccola Ginevra, con alcuni scatti insieme tutta la famiglia e aggiungendo tanti cuoricini. L'influencer Natalia ha scritto «Sono poche dieci foto per raccontare quanto ti amiamo quando ci hai cambiato la vita in meglio e quando siamo felici di avere una bimba così meravigliosa. Sei il nostro amore più grande». E Andrea Zeletta ha aggiunto «Vi amo». I due ragazzi si sono conosciuti a uomini e donne, lui faceva il tronista e lei la corteggiatrice. Nel 2019 poi i due ragazzi si sono innamorati ed è nata la piccola Ginevra ed oggi sono una bellissima famiglia, una famiglia piena d'amore. I don't sleep walking through All my problems are new I can't make it through Every night is the same I keep running fast Left and right Wondering where my head's gone I don't sleep This time, all my problems are new I don't sleep